Per l'Avezzano una gara da dimenticare e una sconfitta pesante all'esordio di Mirko Pagliarini. Nelle proporzioni e per come è arrivata, nulla da dire, il Roma City batte 3-0 i Biancoverdi e li sorpassano in classifica, prendendosi anche un posto play-off. Spareggi di cui esce la formazione marsicana, quasi mai pericolosa nei 95 minuti del Riano Athletic Center. Tutto troppo facile per gli arancio-blu di Maurizzi, che con Gelonesi al minuto 11 ci fanno già capire che sarà un pomeriggio complesso per i marsicani. Di Renzo trova il centrocampistinale e alla conclusione scivolata manca la porta di un soffio. Il gol, quando arriva, lo fa con un'azione che non sembrerebbe portare all'1-0. In Gretolli servito in verticale, un cross strano che diventa un tiro e che con la complicità di Brusca regala l'1-0 ai paroli di casa. La reazione avezzanese, solo la mezz'ora, mascella, disegna per Roberti che manca lo specchio per questione di centimetri. Ma davanti De Silvestro e Senesi creano poco. Cabella, al 35esimo, vede la sua conclusione ribattuta alla disperata. Pagliarini toglie Senesi per Tunkaran all'intervallo, ma quando al 52esimo si fa male Damceschi e il Roma City deve battere un corner, l'Avezzano attende qualche istante per il cambio e paga Dazio. Di Renzo assist mette al centro per Scogna Miglio, che era lì per colpire di testa, e invece col tapin di piede sigla il raddoppio laziale. Avezano con Angelilli e poi Ortolini in conformazione iperoffensiva, ma che non caverà un ragno dal buco, solo una testata di Ferrani fuori, prima di una sequenza di opportunità per il Roma City davvero imponente. Inizia Gelonese al 65esimo con il tentativo di prodezza, poi Sparacello, entrato per Ingretolli, va via a destra, e a Brusca tocca mettere i piedi per evitare il tris. L'estremo difensore biancoverde deve rimediare come può anche su Bonello al minuto 72 e ancora su Sparacello quattro minuti dopo, prima che il 3-0 arrivi per davvero a sei dal novantesimo. Spinozzi, che aveva appena rilevato Di Renzo, si procura un calcio di rigore ineccepibile che Sparacello trasforma, seppur con un brivido, una sconfitta meritata e da cui l'Avezzano deve riprendersi nel più breve tempo possibile, perché la situazione in classifica inizia a farsi difficile e il sorpasso del Roma City di oggi rischia di essere una pietra tombale, almeno sulle speranze di regalarsi una semifinale playoff, che ad oggi è davvero poco ipotizzabile.